Considerata da alcuni la più bella trasposizione cinematografica del romanzo, anche se molto libera, è indubbiamente una creazione straordinaria, angustiosa e servita da un sonoro. Il cinema muto era appena dietro le spalle. Film forte, malgrado l'occhio vigile della censura, rimane senza dubbio un significativo omaggio all'orrore psicologico e al sadismo. La pellicola feticista e intrisa di una notevole carica erotica racconta di Hyde che martirizza una prostituta che ha avuto la sventura di soccorrere il suo alter ego, Jekyll. Signori, alla prossima recensione, alla prossima puntata. Buona visione. Grazie a tutti.